Arbok davvero che non è l'altra pale, classico Allora capiamo, 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 capiamo bro, capiamo, capiamo No, comunque adesso a parte gli scherzi l'ho detto anch'io prima, cioè guarda, se te vinci a parte tutto te lo meriti secondo me, cioè ti guardo ogni sera e giochi bene, voglio dire, tralasciando i meme e le cagate varie Cioè, se devo scegliere qualcuno che vinca il mio, che non sono io chiaramente, vorrei vincersi il fazione, merda di poli il masseo, che dio cane si manomettono le Roma, anche no, possibilmente, dio boia Quando è il thunder gas swat ora, facciamo st'auto flab forse, e poi facciamo il thunder gas swat, merda, questo, questa è una mina, zio, cioè questa è veramente una mina, fra Mamma mia, ma che stecchettiera Socio, questa è una mina Avevamo sto, abbiamo fatto la run prima di questa, 1440 punti con dynamic punch di un wish, che ha sia fatto, ha fatto doppia fatica, sia quella del grosso pesce fangoso, sia quella della mossa da 50 cura, sì Cioè, è pazzesco, e ora abbiamo questo, che però morirà il primo trainer Dai, vai cane, vai dog, vai dog Grande cazzo, stecca la sta meganium Stai scherzando? Cioè, questo che ti fa la fatica delle... è che è fisica, Suckered Fire Eh, però è una mezza merda, perché è fisica Io non la insegnerei neanche, Suckered, qua Tanto non metto quattro fuoco, preferisco avere coverage, cioè, a parte tutto Give up on Suckered, per forza Eh, ma Ember è più forte di Suckered, bro, Ember ha PP Ed è speciale E non missa, cioè Tipo, io qua, se voglio provare la fatica, probabilmente farei Ember qui Come cazzo fa a resistere a un Ember, cioè? Porco di... merda Ah, aspetta, c'è il sole, però Wait Cazzo, c'è il sole, fra, che non ho visto? Ah, ok Ah, con sole è meglio fare Fire Blast di Special Rende, no? Però può missare Merda, che palle, bro Morti così Che palle, ragazzi Ho fatto anche la mossa per provare a non missare E sono morto così Quanto mi ha tolto Dynamic meno? Assurdo Ma cosa sto vedendo? Cioè, ma che è sta roba? Sei turni di Sleep, porco Dio, Dynamic Il primo Dynamic che gli entra Che se missava il primo era già morto da tre turni Dai, però, porco Dio, cioè Mi curo sul selvatico? La stavi per trollare, time out a Mastro La stavi per trollare, time out a Mastro, proprio Beh, ne ha missati tre, però Sì, ma ero entrato il primo che gli è ta Cioè, allora tu mi stai Ho dormito cinque turni E gli è entrato il primo che mi ha dato la confusion al 50 E mi sono hittato da solo E tu stai dicendo Ma, ah, poi però ne ha missati altri Ma vai a cagare, va Il Perriani, Dosh Devo trovare uno al tre, no? E tirare la pozza, secondo me Io proverai la fatica, no? Io tirerei la pozza su un Pelli per al tre A me sembra buona come play qua Se voglio provare la fatica C'è idro cannone all'Aki Era un Pelli per al tre Dio canse, non ti curi su di lui Bailiff Tipo io qua Forse farei Ember over Fire Blast Ember è comunque una 120 con 61 Cioè Mono Emberalo Emberalo, Emberalo Questo serve fatica Più out of rock Servirebbe di sto Pokémon, eh Sarebbe sontuoso Se imparasse Flamethrower Madonna, puttana Che sega che mi tiro Se impara Trower Questo Sì, o pertoncio È rottissimo Cioè è molto È troppo che la Scannon È troppo che la Scannon Socio Rock type, bella La Sperberry cosa faceva? Aspetta No, l'item da me non l'ho preso perché Non aveva abbastanza speed Però non puoi uscire dal bosco Per prenderlo Basta 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 sto Rotom di merda Merda è un incubo sta roba Ember qua No, no, no Powder Snow Giusto? Powder Snow direi Ok Ennesimo Godmon Sì Certo Ne avessi visto uno in sta pill Oltre un Infernape Glass Cannon Ma vai a cagare va Su caballe va Ember Special Rando Fire Blast Special Tecnicamente Ed è fatica del Thunder Ed è fatica del Thunder bro Ed è fatica del Thunder bro Ed è fatica del Thunder E Antibus bro Calma 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 Good Vai 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 Servono 5-6 Run così Adonno Tipo old moves no? Poison Gas è una merda Tu parli troppo Cioè io dico Mi farei la sega Su quello che ho visto E parlare troppo Non è elogiare il lavoro altrui No è parlare troppo Merda Quanti Sì però non mi dai una cura Porco Dio Allora Dimmelo che non mi volete far fare La roba Dai Ditelo Ma Powder Snow con un tatuno di special Dio stronzo Gli farà male Ma imparami una cazzo di mossa buona Maremma maiala Guardate che roba Bella Prepuzio Prepuzio lato Prepuzio Cosa Eh Buono Giuarti Q1 Si gode Questo è il livello Siamo al 17 ora Non è male Praticamente Mi servirebbe compound eyes Dio stronzo questo Buono Dai mamma mia Dammi una cura Dammi qualcosa Hardstone Hard diventa il mio cazzo Se questo passa Brock Porco Dio Quello diventa hard Testò di fratelli Testò di fratelli Cos'è che ha fatto Che abiliti aveva Che abiliti aveva Sto azzurri il di merda Che non ho visto Eh no Però non ha intimidate Mi sa Perché io non vedo L'attacco diminuito No no Io non ho l'attacco diminuito Però fra Quindi non ha intimidate Da tracker Non ho l'attacco diminuito Che cazzo ha Forse farei amber Fireblast Morte Mamma mia Ho mi miss Si anda Brock Si anda Brock Capo Torres Proud Mio 50 Vai Dai Monti Depay In Cabolonga C'è un bot di pack pokemon Da aprire Non vedo l'ora Ragazzi Pidgeotto Si becca Powders No I would say Non posso usare I fireblast qua Al momento Penso Madre Vediamo Boh Forse farei amber Amber io qua Forse farei amber Qua Forse farei amber C'è almeno di robe assurde Madre Facciamo special rend Che ha più power Di powder snow Secondo me più special rend E' meglio qua no Secondo me è meglio special Di powder no Cioè ma tu ti rendi conto Di cosa sto a vedere Fratelli Due powder tirano giù O no Special però può far flinciare No se non erro Ah no 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 Può No no Devo fare special no Eh dipende Ma da Special poi Non di che non so perché Questo può frizzare Eh però non so se Due lo tirano giù Due powder qua Vediamo 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 Se godo Porco dio Se godo Ah ora devo scegliere La mossa di cui Perdere i pp Solo che amber Non killa qua Qua se non erro Perdo la mossa No da garage O come funziona Far powder Io terrei special Perché proverei a shottare Ogni pokemon qua Non so se Garage secondo me Non mi ricordo Se funzionava fin quando Lui non cambiava mossa Ah before it's next turn No 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 Allora no Eh powder 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 Ma me la ricordavo Diversa Non so perché Eeeh Allora Io forse farei powder qua Perché special Ha più potenza Però può missare Powder Ha un 80 Su tra pinch Quindi Io farei powder Probably Luxray Probabilmente farei fire blast Per forza Più che altro Non voglio rischiare il miss Sleep powder Merda No non penso di metterla Però 75 A cura Sì bro No Forse è stato Powder snow No Cioè Special Ha più power Però Può missare Questo non può missare Vediamo Se incontro Quello al 23 Che è un Ceklon Out of Brock Del thunder bro Con Entei Out of Brock Del thunder Con Entei Capo Con calma Una Camera Grazie a tutti